La raccolta di poesie tra terra e cielo ha scritto un bellissimo romanzo, un nome lunghissimo che fa molto film di lega argento, che aveva quei nomi esodici, il mistero delle 99 tavolette d'argilla rossa già il titolo dice questo lo devo leggere perché voglio capire perché è un mistero, perché sono tavolette d'argilla, perché sono rosse in un passato lontanissimo che è talmente lontano che sembra un presente o addirittura un futuro ecco, il secondo romanzo io ancora chiaramente non l'ho letto perché l'ho avuto tra le mani l'altro giorno le verità di fango, enigma rosso, che adesso ci spiegherei il titolo, è un ideale proseguimento del primo romanzo e dice infatti cosa si nasconde dietro il tentato furto delle tavolette d'argilla a casa del professor Olla? questo adesso forse ce lo racconterò, forse no, una cosa vogliamo sapere Pietro si è occupato di televisione fino a un po' di tempo fa quindi ha avuto una vita abbastanza avventurosa, poi oggi sappiamo in che condizioni sono i media parlavamo prima anche con Tuglio e quindi è passato dalla televisione al libro in qualche modo però senza dimenticare il suo passato, il suo trascorso televisivo